Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei due embraghi d'alpinismo di Singer Rock e in particolare ho qua il modello Ultralight che è piccolissimo e leggerissimo è un modello un pochino più tuttofare e che può andar bene anche per altre discipline adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa inizio subito dal modello Ultralight chiamato Singer Rock Serac che è quello che veramente mi è piaciuto di più pensate che ha un peso nella taglia L di soli 96 grammi taglia L perché ha diverse taglie in base alla grandezza della nostra vita S, M, L e XL basta prendersi le misure della vita e comprare la taglia giusta dal punto di vista davvero del peso 96 grammi sono nulla è veramente leggerissimo, addosso non lo si sente poi vedremo è anche piccolino nelle fibie quindi dà anche poco fastidio quando si cammina nello zaino occupa pochissimo spazio perché è richiuso nella sua custodia è grosso praticamente quanto un pacchetto di fazzoletti è veramente incredibile quanto sia leggero e piccolo per quanto riguarda le sue caratteristiche innanzitutto parliamo delle chiusure quando andiamo a indossarlo perché nella parte superiore per andare a chiudere il fascione alto abbiamo una semplice clip da andare a chiudere e tirare estremamente semplice sia da chiudere che da aprire è veramente molto intuitivo e poi per quanto riguarda la chiusura dei cosciali dovremo semplicemente andare a creare un'asolina con la parte inferiore e inserirlo nella chiusura superiore è veramente anche qua semplicissimo tanto toglierlo che puoi andare a metterlo vi assicuro è di una banalità che riuscirete a farlo anche alla prima occasione e soprattutto è estremamente semplice farlo anche con dei guanti belli spessi addosso quando magari stiamo facendo sci alpinismo o alpinismo in zone molto fredde per quanto riguarda la comodità allora diciamo che indossato come dicevo è veramente comodo non si sente piccolino soprattutto tutte le bande sono piccole quindi dà veramente poco fastidio addosso non lo si sente però se dovessimo restarci appesi lì iniziamo a sentire che non è proprio il massimo nel senso se malauguratamente dovessimo finire dentro un crepaccio e magari restare appesi all'imbrago per 10-15 minuti non è un problema non è sicuramente un imbrago col quale stare appeso le ore col quale magari farci delle vie d'arrampicata e via dicendo perché in quel caso lì sarebbe veramente fastidio per quanto riguarda la traspirabilità è super traspirante perché la parte di tessuto è praticamente quasi trasparente quindi di aria all'interno ce ne passa tantissima e per quanto riguarda la possibilità di portare del materiale troviamo due anelli porta materiali uno a destra e uno a sinistra tengono entrambi 5 kg ci si può attaccare un po' di materiali che dobbiamo portarci dietro e poi sui cosciali sia a destra che a sinistra c'è la possibilità di andare a inserire una vite da ghiaccio per averla sempre a portata di mano infine per quanto riguarda l'anello di servizio non è classico non abbiamo i classici passanti con l'anello di servizio ma abbiamo due anelli che dovremo prendere entrambi nel momento in cui andiamo a fare esempio un nodo A8 oppure andiamo a metterci un moschettone è una soluzione adottata da molti produttori per andare a diminuire un po' il peso ma è altrettanto sicura quanto un anello di servizio tradizionale infine devo dire che davvero questo Serac mi è piaciuto tantissimo piccolino, estremamente leggero, non dà fastidio è l'ideale per chi sta cercando un imbraco come fare sci alpinismo ma anche alpinismo estremo cascate di ghiaccio e via dicendo lo si riesce a indossare come abbiamo visto anche se avessimo avere dei ramponi o degli sci ai piedi quindi veramente veramente molto interessante e poi ne vediamo anche il prezzo perché è altrettanto interessante passando invece al modello un pochino più tutto fare lui possiamo vederlo sempre come un imbrago alpinistico perché comunque riusciamo a indossarlo anche tenendo i piedi a terra perché ha le stesse cinghie da andare a utilizzare facendo delle asoline come abbiamo visto sul modello di prima quindi anche lui possiamo classificarlo come un imbrago ad alpinismo ma non solo perché poi avendo queste belle bande nella parte superiore sui cosciali lui è perfetto anche per fare delle vie d'arrampicata anche lunghe perché ci dà un ottimo sostegno iniziando dal peso pesa 380 grammi nella taglia L perché anche qua ci sono diverse taglie in basse alla grandezza della nostra vita come vi dicevo è estremamente semplice da indossare troviamo 4 anelli porta materiali 2 a destra e 2 a sinistra che tengono fino a 5 kg l'uno quindi 4 anelli possiamo portare 20 kg dunque riusciamo a fare anche delle vie abbastanza lunghe la parte anteriore è abbastanza classica perché troviamo i due passanti in cui andare a fare il classico nodo da 8 collegati poi dal anello di servizio quindi una soluzione anteriore molto più tradizionale e parlando invece della sua comodità se dovessimo utilizzarlo camminando facendoci alpinismo non è un problema comunque lo si riesce a utilizzare è naturalmente un pochino più ingombrante rispetto a quello che abbiamo visto prima perché è proprio più grosso in se l'imbrago ma questo gli dà modo di poter essere decisamente più adatto a fare anche tante attività come appunto l'arrampicata come anche l'arrampicata sportiva e io dicendo perché i pad che lo compongono sono veramente morbidi sono morbidi ma anche traspiranti perché comunque ho utilizzato delle temperature miti bisogna dire che è davvero molto traspirante lo si riesce a utilizzare senza sudare troppo infine per quanto riguarda questo garnet devo dire è un ottimo imbrago secondo me perché comunque è un imbrago d'arrampicata che possiamo utilizzare per fare alpinismo perché grazie a queste cinghie che si aprono riusciamo a metterlo anche con i piedi a terra in generale sì dai questo è davvero un ottimo imbrago tutto fare ma arriviamo ai prezzi e alle conclusioni per questi due imbraghi sia il Serac che il garnet vengono venduti su un prezzo tra i 60-65 euro dipende un po' da voi che tipo di attività fate se state cercando un imbrago ultra leggero con cui fare delle attività dove il peso conta esempio alpinismo o scialpinismo il Serac è sicuramente l'ideale se state cercando un imbrago con cui fare sia dell'alpinismo sia dell'arrampicata allora andrei più sul modello garnet perché è sicuramente più polivalente e detto ciao ragazzi non speranze sia stato esauramente esaustivo anche per questa recensione vi ringrazio la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao